Sì, alcune ragazze già abbiamo visto, a parte quelle che sono andate con il gruppo di Under 19 a Kosovo. Abbiamo partecipato a MHC a febbraio in Grecia, dove maggior parte abbiamo visto, maggior parte ha giocato questo torneo internazionale che in qualche occasione ci ha dato anche soddisfazione. Qui abbiamo aggiunto altri elementi che non hanno avuto possibilità di fare parte di Youth League perché giocavano con la loro squadra e ora abbiamo possibilità di vederli uno o due giorni ancora e decidere perché partiamo in 17 in Turchia. Non è mai semplice naturalmente farsi un'idea delle avversarie, soprattutto in una categoria di ingresso, perché non si ha idea del livello delle squadre che si troveranno, però più o meno abbiamo un'idea dei championship. Tu l'hai vinto con la Nazionale Under 19, lo abbiamo ripetuto ancora con l'Under 19 un paio di settimane fa, adesso tocca l'Under 17. Ecco, con quali obiettivi, con quale ambizioni questa squadra va in Turchia? Dopo tantissimi championship, devo dire sinceramente, che ho partecipato con le nostre nazionali giovanili, e una cosa importante è partire bene, a parte avere anche un gruppo che ti permette di giocare perché ti dà tantissimo, vinta la prima partita ti carica per la seconda perché loro sono ancora giovani, il loro carattere è ancora debole. Io mi auguro che le ragazze, che già la Turchia abbiamo visto, alcune partite abbiamo visto, l'avversario che ci aspettano lì e penso che sono in grado di giocare con tutte. Importante credere e sognare quell'oro che a questo gruppo porterebbe tanto avanti tutto l'altro dietro di loro. Da un punto di vista sia mentale, di atteggiamento, sia anche tecnico, tattico, rispetto al tipo di lavoro che avete fatto, come sta questa squadra? Ma sta abbastanza bene, devo dire che sta abbastanza bene, che sono contenta che quel lavoro che abbiamo fatto durante Youth League e il lavoro prima di andare in Grecia è rimasto in testa che è una cosa importante. Ora solo dobbiamo un po' rifinire questo lavoro, la prossima settimana, abbiamo cinque giorni, di fare un lavoro di chiusura di quello che dobbiamo fare in difesa e in attacco. Può aiutare secondo te il fatto di avere in organico alcune giocatrici che hanno già giocato il Championship Under-19 e lo hanno vinto, quindi hanno già sentito il profumo dell'alto livello della pala a mano internazionale? Sì, certamente, certamente. Porta la positività, portano quella grinta che hanno manifestato a Kosovo e spero che lo trasmettono anche a quelle ragazze che non sono state qui. Come abbiamo avuto sempre questi giovani che partecipavano in categoria in più, vieni in più, cioè più grande di loro, ha portato sempre questi risultati. Dal 2000 che abbiamo inserito, le 2003-2004 e così via, ha portato un po' di risultato in più. Ti chiedo un piccolo spoiler, che cosa dirai pochi minuti prima dell'esordio all'inizio di questo torneo alle ragazze? Pochi minuti prima, penso che sarò in coma profonda, comunque scherzo. Cercherò di trasmettere voglia di non arrendersi mai, quello per me è importante. Ho detto sempre, se troviamo avversario che è più forte di noi ma non dobbiamo arrendersi prima di partita, dobbiamo credere 60 minuti e poi si vedrà. Uscire dal campo con la testa bassa penso che è la più brutta cosa per un atleta e un allenatore. Beh, intanto sicuramente hanno già avuto la maniera di fare qualche piccola esperienza internazionale, ma questo è tutto un altro livello perché i championship sappiamo cosa rappresentano per le generazioni che si avvicendano. È un gruppo, diciamo, ben dotato fisicamente. Forse ha avuto meno esperienza delle altre perché c'è stato il periodo di Covid che le ha un po' bloccate nelle convocazioni, nelle selezioni. Ma è un gruppo molto disponibile con delle caratteristiche individuali importanti e con alcune altre ragazze che sono ancora in crescita. Con Liliana Ivaci commentavamo il piccolo vantaggio, se possiamo chiamarlo così, di avere in gruppo giocatrici che hanno già fatto parte dell'Under 19, hanno già sentito il profumo della palla a mano internazionale, anzi il profumo dolce della vittoria anche. È fondamentale, questo come ti ho detto altre volte, è un postulato che noi ci siamo messi in testa. Dobbiamo cercare sempre di semplificare la vita ai gruppi nuovi, cercando di avere qualche giocatrice con esperienza. Per fortuna loro hanno vissuto un momento bellissimo con la vittoria dell'Under 19, ma già hanno lavorato prima con l'Under 19 di questa esperienza, oltre che nel championship e anche nelle selezioni. Giocano in Serie A alcune giocatrici, questo è importante perché è il movimento che le ha fatte forti, non è solo la presenza nazionale che fa forti queste giocatrici. Credo che possano trasmettere un po' di esperienza in più e questa felicità che si accumula con le vittorie. È chiaro che ogni generazione fa storia a sé, però i successi ottenuti, sia in campo femminile che anche in campo maschile, poi in questo tipo di competizione nel championship, ci impone di arrivare in Turchia con delle ambizioni? Sì, noi non dobbiamo mai nasconderci, dobbiamo sempre cercare di puntare alla vittoria, sui championship è quello che noi vogliamo fare perché non è il gruppo principale, quindi dobbiamo cercare di emergere, ci siamo riusciti abbastanza spesso ultimamente, non è mai facile vincere perché comunque abbiamo squadre con la storia e un pedigree molto importante, tanto per dire l'Austria anche stavolta, ci sono squadre veramente serie con cui ci confrontiamo, però noi vogliamo andare lì per cercare di arrivare in semifinale, questo sarebbe il primo step importante, una volta che sei in semifinale, come dicono tutti, solo da lì si può vincere, se non ci arrivi non puoi mai provare a vincere e quando sei dici provi seriamente.